Ultima spalata per stasera. Il video postato su Facebook la scorsa notte era intitolato Ultima spalata prima di andare a dormire. Simone Moro, Altoatesino di adozione, e Tamara Lunger, 28enne della Valdega, stanno trovando non pochi ostacoli nella loro marcia verso la vetta del Manaslu, l'ottava montagna più alta del mondo con i suoi 8163 metri. L'ostacolo principale ha un nome preciso, neve. Le precipitazioni negli ultimi giorni sono state molto abbondanti e stanno mettendo in difficoltà molti villaggi nepalesi. Adesso sicuramente abbiamo già spalato un'ora. E vedete il muro sopra Simone. Di questa mattina le nuove immagini pubblicate su Facebook, con un testo piuttosto eloquente e forse in parte preoccupante. Simone Moro racconta che ieri lo sbuffo e il pulviscolo di una valanga sono arrivati fino al campo base, facendo capire che la situazione sta diventando tutt'altro che sicura. Ci sono pendii apparentemente innocenti sopra di noi, scrive Moro, ma carichi di 5 metri di neve. Scendere a piedi e lasciare il campo base sarebbe un suicidio, dice Moro, perché le valanghe scendono notoriamente nel canale utilizzato in primavera e in autunno per salire dall'ultimo luogo abitato fino alla zona del campo base. Per questo, dice Moro, abbiamo atteso che l'elicottero potesse raggiungerci a campo base. Ora è qui, ma la visibilità è di nuovo nulla, scrive lo scalatore bergamasco, di origine ma da tempo residente a Bolzano. E quindi anche il pilota, Steven Bruce Bokan, è qui con noi, in attesa che ritornino le condizioni per volare. Non intendiamo mollare, dobbiamo solo rivedere i nostri piani. Parola di Simone Moro e Tamara Lungher.